Rete Ferroviaria Italiana ha giudicato ad un consorzio di imprese la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'otto funzionale Battipaglia-Romagnano. Parte quindi la nuova linea di alta velocità Salerno-Reggio-Calabria. L'appalto ha un valore di oltre 2 miliardi di euro finanziati anche con risorse PNRR. I lavori consistono nella nuova realizzazione di una linea a standard AV di 35 km tra Battipaglia e Romagnano dove è previsto un bivio per garantire l'interconnessione con l'esistente linea che da Battipaglia va verso Potenza e Metaponto. Il progetto primo lotto della nuova linea di alta velocità Salerno-Reggio-Calabria prevede la realizzazione di 18 km di gallerie e viadotti per una lunghezza totale di circa 6 km. Il lotto Battipaglia-Romagnano già oggetto di dibattito pubblico avrà effetti positivi sui collegamenti verso Potenza e quindi verso la dorsale Adriatica. Il completamento della nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio-Calabria parte integrante del corridorio della rete TNT-Scandinavia-Mediterraneo che collega Palermo a Helsinki. Consentirà di sviluppare nuovi traffici viaggiatori e merci lungo l'asse nord-sud della penisola accelerando dinamiche di crescita economica, sociale e turistica.